Con EasyCassa puoi gestire i tavoli delle tue sale in modo completo. Vediamo insieme come si fa. Nella pagina tavoli puoi monitorare quali tavoli sono ancora liberi, quali sono occupati e da quale operatore sono stati presi in carico. Puoi inoltre vedere quanti tavoli e coperti sono occupati nel tuo punto vendita e in ciascuna delle tue sale. All'interno di ciascun tavolo puoi vedere quanti coperti sono associati al tavolo, quante portate sono state inviate alla cucina e da quanto tempo i clienti stanno occupando il tavolo. Può capitare di dover spostare il conto da un tavolo ad un altro. Per farlo, seleziona il tavolo, poi clicca su Sposta conto e seleziona il tavolo sul quale vuoi spostare il conto. Verrà stampato un tagliando dalla stampante comande per comunicare l'avvenuto spostamento. Se invece vuoi unire due o più tavoli, ti basterà premere sul pulsante Unisci separa, selezionare i tavoli che desideri unire e confermare. Anche in questo caso verrà stampato un tagliando per comunicare lo spostamento. Non preoccuparti degli ordini già presi in questi tavoli, verranno mantenuti nel tavolo unito. Una volta conclusa la vendita, i tavoli verranno separati automaticamente. Gestire i tavoli non è mai stato così semplice. Easy. Come EasyCassa.